Arriva le 5 precise, cerca di essere puntuale, la macchina la puoi lasciare davanti alla porta dell'albergo, c'è un parcheggio, trovi sempre posto, ma anche se ci sono tante altre macchine sistema la tua con la parte posteriore contro l'edificio, così se passa qualcuno vede solo la targa davanti, quella piccola, che nessuno riesce mai a leggere Ti fai dare una camera qualsiasi, purché non sia il primo piano, lì c'è la direzione ed è più facile incontrare gente Scrivi il numero della stanza su un biglietto, c'è uno scrittoio nella hall vicino al portiere Grazie a tutti i nostri spettatori Poi consegni la busta a uno dei fattorini e gli dici di portarmela dal paducchiere L'ascensore serve anche il piano inferiore e io posso salire direttamente senza destare sospetti Scriviti al nostro canale Grazie a tutti Grazie a tutti